C'è una domanda che mi diceva, mi ha passato prima Miri, che arriva dai social, che mi dice io ho subito, sto subendo in questo momento una piccola impresa che sta subendo un decreto ingiuntivo temporaneamente, immediatamente esecutivo, provvisionemente esecutivo, scusami suggeriscimi bene il piacere Miri, ma ecco, parco cane, provvisionemente esecutivo. Quindi, vogliamo spiegare in poche parole, semplici, cosa e come posso difendermi? Certo, è un fenomeno che si verifica principalmente sui rapporti incardinati sul conto corrente, quindi sul credito che nasce sul conto corrente. La banca si reca in tribunale dal giudice, in maniera molto sintetica e lineare, portando i propri stratti conto e si fa rilasciare un titolo esecutivo dal giudice, che è questo famoso decreto, che viene emesso prima ancora che il debitore venga sentito, per cui è la banca che si reca in tribunale, presenta gli stratti conto e il giudice gli dà il titolo esecutivo. Egnaro, lui non sa che c'è questa cosa. Il giudice valuta sulla base della documentazione che porta sulla banca, fondamentalmente. Per cui, se il giudice ritiene che questa documentazione è esaustiva ed è congrua per la pretesa, emette il decreto ingiuntivo e lo può emettere provvisoriamente esecutivo. Ciò significa che, malgrado l'opposizione che il debitore potrà fare nei famosi 40 giorni dalla notificazione del decreto, tale decreto è comunque già pronto per essere messo in esecuzione e per suffragare quindi un pignonamento, che sia o presso terzi, cioè presso un altro istituto di credito, parlo di un conto corrente pignonato, oppure addirittura immobiliare. Un pignonamento fondato sull'immobile di proprietà magari direttamente dell'imprenditore se ha fornito le fiduazioni bancarie, come spesso poi succede con i conti correnti, capita quasi sempre questo. Certo, grazie per adesso questa piccola cosa perché molte aziende, anche lavorando tranquillamente, possono trovarsi in questa situazione abbastanza... Lo strumento per opporsi a questa situazione è costituirsi tempestivamente in opposizione al decreto ingiuntivo e chiederne la sospensione. Il giudice ha la possibilità di interrompere, di sospendere l'esecuzione provvisoria anche prima dell'udienza fissata a seguito della nostra opposizione. In realtà lì si gioca tutto perché con la riforma dell'articolo 648 del codice di procedura civile si è confinato il momento in cui il giudice poi si pronuncia sulla provvisoria esecutività perché il decreto ingiuntivo può nascere già provvisoriamente esecutivo oppure questa provvisoria esecutività può essere resa nel momento della prima udienza quando il debitore fa l'opposizione. Con la riforma del 2013 è stato modificato l'articolo 648 del codice di procedura civile ed è stato stabilito che il momento in cui il giudice valuta la concessione o il rigetto della provvisoria esecutività è la prima udienza. Per cui anche il debitore che fa l'opposizione e chiede la sospensione si gioca tutto in quell'udienza. Così come è verosimile ritenere che se il giudice non concede la provvisoria esecutività in prima udienza il debitore può tirare un sospiro di sollievo, potrebbe tirare un sospiro di sollievo fino alla fine del procedimento perché il giudice non potrebbe ritornare sui propri passi e ripronunciarsi di nuovo ai sensi dell'articolo 648. Quindi quando ricevo questa busta verde io devo chiamare subito l'avvocato? Esatto, la prima cosa da verificare è se il decreto ingiuntivo è immediatamente esecutivo oppure no. se è immediatamente esecutivo bisogna subito fare l'opposizione e chiedere la sospensione inaudita altra parte, cioè in assenza dell'ascolto dell'altra parte e prima dell'udienza. Tempestività? Tempestività, poi si finisce sempre col discutere in prima udienza della sospensione e si spera nell'accoglimento della cosa.